Sono bellissima, sono troppo bella La Befana è un po' più brutta di me Ma io sono bellissima Con questo cappello alla moda Ma che cavolo sta succedendo qui sul cellulare? La Befana di nuovo! Speriamo che siano buone notizie Come per esempio che ci ha regalato una calza piena di dolcetti Lo vediamo, lo è finito Chi l'ha preso? Siete stati voi? Me la prenderete? Cosa? Siamo stati noi a fare cosa? La Befana è arrabbiata Befana sono Vittorio Ma non capisco proprio di cosa tu stia parlando Preso cosa? Perché sei così arrabbiata? Oh mamma, questo non promette nulla di buono La finite voi due di fare tutto questo casino Che la Befana è già infuriata È successo È successo Cosa cavolo sta succedendo qui? Bera, finisci di dare i bacetti a Claudia? Di leccarla tutta quanta? No, mi piace Mi piace sbalare Mi piace la mia salivare Ti ho preso Claudia Adesso tocca a te Ti voglio anch'io bene Claudia Ti ho fatto dare un bacetto qui Mua, mua, mua Mua, mua Mua, mua Mua Eh, ditemi subito il martolto Il martello Il martello Ditemi subito il martello Il martello Non ho capito quello che ha detto Claudia Il martello Claudia la Befana è infuriata Tu per caso ne sai qualcosa? Hai combinato qualcosa di strano? Che la Befana è così infuriata Dice che abbiamo preso qualcosa No, Vittorio Claudia Perché stai sorridendo? Eh, no Perché? Claudia hai una faccia un pochettino sospetta Lo sai? No, no Se scopro che hai combinato un guaio Non ti do più i biscotti con la Nutella Esatto, hai sentito bene Ma piuttosto che cosa hai dietro la schiena? Nulla Claudia ho visto che hai qualcosa dietro la schiena Per favore, me la puoi far vedere gentilmente? Ok Me la faccio vedere Eccola Cosa? Questa Cosa? Le ascelle Le ascelle? Eh, sì Claudia hai qualcosa dietro di te Dove? Guarda Claudia tu mi stai nascondendo qualcosa Lo sai che se la Befana si arrabbia Ci porta il carbone per l'epifania, vero? E tu lo vuoi mangiare il carbone? No Quindi mi prometti che tu non hai fatto niente di strano? VittoFamily, secondo voi c'è da fidarsi di Claudia? Secondo me no, infatti sta già ridendo Guarda Sta ridendo Claudia, va bene, io mi alzo Allora Che c'è Claudia? No Perché stai ridendo? No Claudia tu stai ridendo No Eh sì Eh stai ridendo No È una risata quella che hai fatto No Sì No Sicura? Sì Che cos'hai là dietro? Niente 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 Sei sopra un mio cavo Ok Grazie mille Alza quel piede Grazie Ma c'è qualcos'altro là dietro? Dove dietro? Lì ce l'hai in mano Hai qualcosa in mano? No E adesso sta di nuovo dietro E adesso sta dietro il tuo sederino Claudia Eh? Guarda sotto non c'è Non c'è Cosa c'è qua? No nulla Qua dietro cosa c'è? Claudia cosa tieni? Cos'è quello? No Non te lo voglio dire Bene aiuto Aiutami Ci ha scoperto Restituiscilo Restituiscilo Claudia Restituiscilo No Per favore Claudia lo devi fare Perché se no È la fine Claudia No Lo devi fare Se no la bevara Ci fa pezzi No Beh Eh? Che c'è? Di cosa state farfugliando Quei due? Cos'è quella cosa che hai in mano Claudia? Quella cosa lì Eh? Che cos'è? Che cos'è quella cosa lì? Che cos'è quella cosa lì? E adesso chiudiamo la porta Il calcone Saper impuriarsi Oh no Claudia Tu sei completamente impazzita Non possiamo rubare le cose alla pepana Quella ci fa pezzettini Cosa facciamo adesso con questo cappello? Io Io non so cosa fare Cosa fai? Bucare Ma buchi? Sì E che ti serve bucare? No Ma no Non lo buco qua No Qua Sì ecco Sì ecco L'ho bucato Ma no Non lo devi rompere il cappello della pepana Perché sennò quella si intervosisce ancora di più Adesso noi cosa facciamo? Di chiamiamola Che lo ridai? Io ce lo devo ridare? Sì Cioè Sì perché io l'ho rubato Invece tu lo vuoi restituire Se lo vuoi restituire allora tu vai Avete capito? Eh sì Vai Claudia io col cavolo che vado a restituire il cappello Tu lo hai rubato E tu lo restituisci chiedendo scusa Ecco E al massimo per scusarci ci mettiamo vicino anche qualche dolcetto Oh Vai No io non ci vado Aspetta Ma adesso cosa facciamo? Glielo diciamo alla pepana Oppure non diciamo niente E ce lo teniamo noi Diciamogli qualcosa E allora diciamo che Chiede davvero due birbanti Me la pagherete Mi vendicherò presto Oh mammina Lei lo sa che noi abbiamo il cappello Claudia Lei lo sa che noi ce l'abbiamo No Non lo abbiamo Lo si rompendo Non l'abbiamo oltre questo E allora diciamogli che non ce l'abbiamo Allora Befana Noi non abbiamo assolutamente niente di tuo Non abbiamo niente Neanche Neanche l'ombra Neanche la doombra Non abbiamo nulla L'unica cosa che abbiamo qui Ehm Vera 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 e delle patate noiosissime Esatto Sì Non abbiamo niente qua Zucche Niente Zero Cetrioli Banane Abbiamo il tuo cappello No 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 Non ha sentito Non ha sentito Meno male Comunque l'ha bucato No Lo hai rotto Claudia Stupido Befana Abbiamo il tuo cappello ora E l'ho bucato No Io l'ho inviato Claudia Sei impazzita Cancella 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 No Ma perché io l'hai detto Ora lo legge Ora lo legge E sono cattivello Ma sei impazzita Tu non sei cattiva Tu sei pazza Adesso la Befana viene qui Ci distrugge Sa che ha il suo cappello Stupido Befana Abbiamo il tuo cappello ora E l'ho bucato Oh no Che bello Mamma mia Mamma mia Mamma mia Come devo fare Con lei Come cavolo Devo fare Claudia Adesso la Befana Sa che abbiamo il cappello Verrà qua con la scopa E ci farà qualche sortileggio E ci trasformerà in delle rane O se no di peggio Ma se noi abbiamo un'arma Quale arma abbiamo Le banane Il martello Con il martello Schiacciamo i chiodi La Befana ha inviato l'audio La Befana ha inviato l'audio Adesso sarà sicuramente Tutta quanta arrabbiata Esatto Restituitemi subito il mio cappello Ne ho bisogno Altrimenti la mia testa si raffredda Dobbiamo dargliela subito Glielo dai tu il cappello La Befana Eh certo La colpa è tua E io lo devi dare tu No Perché no? No E perché no? Che? Vieni Che? Andiamo Oh Dove vai? Befana Il tuo cappello E l'aveva rubato Vittorio No non è vero Befana L'ha rubato io il cappello L'ha rubato Claudia No è vero Lui ha detto Sono bellissimo Vittorio Non io Sono la più bella del reame Allora Secondo me questo cappello qui Lo dobbiamo tenere nascosto Ok? Perché è pericoloso Quindi lo nascondo Mettiamolo qua sopra In modo che nessuno lo tocca Claudia Claudia No No Bene Io sono Vittorio E io sono Claudia E ci vediamo al prossimo episodio Ciao Volete diventare anche voi Dei veri e propri membri Della VittoFamily Dovete avere assolutamente Le magliette ufficiali Per avere la maglietta ufficiale Della VittoFamily Con l'autografo di Vittorio Ovvero il mio Basta andare su VittorioLoffredo.it E la maglietta ufficiale Arriverà dritta dritta A casa vostra E diventerete Dei veri e propri membri Della VittoFamily VittorioLoffredo.it Vi aspetto lì Ciao